Salve a tutti ragazzi qui Asciato e oggi siamo qui in questo unissimo video Oggi siamo qui con tipo il terzo ultimo video di FIFA 22 Perché si sta uscendo il 23 Lo prenderò al day 1 e forse al day 2 o alla sera del day 1 Porterò il primo video Non vi prometto niente può darsi che tipo mi ammalo Non portiamo sfortuna Oggi siamo qui con una squadra rumena Cioè una squadra che fa parte della penisola balcanica Che cercherà di vincere la Premier League Ma come cercherà di vincere la Premier League Che è già sfacciata tra l'altro Se ho a Bucharest Campionessa di Champions League Già una volta E oggi proverà anche ad andare Ci simuleremo insomma anche il secondo anno Per vedere se farà la Champions O qualsiasi Coppa Europea Per vedere se la vince E ora passiamo alle presentazioni La penisola balcanica come sapete tutti Penso e mi auguro È quel paese Cioè quella penisola più o meno Quel gruppo di nazioni Composta da Slovenia, Croazia, Bosnia Serbia, Montenegro, Kosovo Romania, Bulgaria Moldavia, Grecia Macedonia del Nord Albania non so se l'ho già detto E basta E quindi ho raggruppato tutti i giocatori più forti Di queste nazioni insomma E voglio vedere se riescono a vincere la Premier League Oppure la Insomma la Champions League O quello che si qualifieranno al secondo anno Partiamo dalla panchina con le presentazioni C'è il nostro carissimo Andanovic Poi c'è Livakovic dalla Dinamo Zagabria Socrates dall'Olimpiakos Isai dalla Lazio E vabbè Ora non vi dico più Non vi dico le squadre Ma vi dico le nazioni che è meglio Quindi era mi pare Slovenia, Croazia, Grecia Albania Orsic della Croazia Popescu Che mi sa che era già in squadra Della Romania E Pandev Il nostro bellissimo Pandev Dalla Macedonia del Nord Poi passiamo a Oblak Sempre della Slovenia Vabbè i portieri sloveni sono più forti Insieme a Livakovic Che ho messo lo stesso Della Croazia Poi abbiamo Skriniar Serbo Osloveni Slovacchia o Serbia Oddio lo sapete che Vabbè Serbia credo Insomma Skriniar Perché Non dico che confondo bandiere o cosa Però confondo i giocatori che ci giocano C'è Gimenez Che Gimenez Perché c'è Gimenez Facciamo finta che non l'avete visto Non so Ah è Racica Forse non so Mi sono sbagliato a fare un trasferimento Vabbè Gimenez verrà ceduto Immediatamente Racica del Kosovo Poi c'era Socrates Vabbè Lo me l'ho messo ora Ci doveva essere lui Non so perché c'era Gimenez Che era dell'Uruguay Mi pare Manolas Della Grecia Ex Napoli Versalico Della Croazia Sono parecchi Della Croazia Sono la maggior parte Per farvi capire Brozovic Modic E Kovacic Della Croazia Poi c'è Piani C'è Dzeko Della Bosnia E Vlaovic È la nostra puntatina D'amante Della Serbia Avrei potuto mettere Vabbè La panchina L'ho voluta fare Un po' scarsetta Esotica Insomma Così Avrei potuto mettere Milinkovic Savic Al centrocampo Avrei potuto fare Tante cose Insomma Pure Vabbè Un sacco di persone Però ho optato Per questa squadra Ora Manca solo Una piccola Modifica Da fare Andiamo Nell'Hub Rosa Spero che Non Ne vale L'esonero Non so Perché lui sia qui Ma dopo Non mi giocano I giocatori E vabbè Vabbè Provo a venderlo Perché dopo Non mi giocano I giocatori Mi gioca Cimenez Commesso per sbaglio Quindi Ora siamo Un po' di giornate E provo a venderlo Io direi Che è tutto pronto Per la simulazione Incredibile Fino a gennaio E allora Ho messo Lo stavo a Bucarest In Premier League Prima della finale No Prima della finale Prima Al posto Del Norwich Mi pitch A parlare I giorni di Champions Sono già fatti E allora Io direi Di andare A stimolare Cioè però Aspettate Prima prova A vendere Cimenez Allora Vediamo un po' La rosa Scesi Modric Vabbè Ma non ci interessa Sinceramente Siamo noni Ah Vabbè Ma sono tutti A 32 punti Cioè Chi è a 32 punti Noi siamo a 29 32 Vinciamo una Il Liverpool A 5 Non abbiamo vinto Ma arriviamo in Champions Ve lo dico io Vediamo un po' Se sta giocando Effettivamente Effettivamente Come si chiama Eh Eh Il suo nome È Ah Gimenez Gimenez Sta giocando Ok Sono stupido Perché non lo posso vedere Da qui Sto solo perdendo tempo La statistica di squadra Andiamo su FC Stawa Bucharest E Andiamo Su difensori Gimenez Gimenez Socrates Ha fatto 5 partite E Gimenez 10 Vabbè Dai Ci sta Gimenez Rinforzo Ora Spero di Spero di Rientrare In qualche Coppa Europea Io passerei A fine Campionato Per vedere Allora Siamo qui 25 Maggio Non siamo Andati male A parte in Coppa Che ci siamo Fatti Terminare Penso Nelle Semifinali Sesti Allora Una coppa europea C'è Si chiama Oddio Europa League Sì Europa League Cioè dipende da chi ha vinto la coppa Credo Se no è conference Tipo La Carabao L'ha vinta Il Tottenham L'Emirates FA Cup Il Chelsea Allora Non mi ricordo quale ti manda in Premier League Però sia Tottenham E sia Chelsea Sono sopra Quindi siamo in Europa League Ora ci vediamo l'anno prossimo Con l'Europa League Sesti I Balcanici A parte che Tutti attaccati Di punti Dicevo I Balcanici Sono andati bene Diciamo In Premier League In panchina Qualcuno si è ritirato Si è morto No Quasi Pandev Però vabbè E Penso che Socrates Non ha giocato Vediamo un attimo Le presenze Anzi Anzi Niente presenze Perché tanto so che non ha giocato Però ci vediamo Ci vediamo Capocannodiere Zeco 20 C'è Vabbè Sarà 33 Il Liverpool L'ha strato Minato il campionato Comunque sembra tipo La classifica Di un po' di anni fa Vabbè Se tutti a sé Liverpool Vabbè Ha dominato Ora ci giochiamo L'Europa League L'anno prossimo Allora Finita L'Europa League Ve la faccio vedere Direttamente Tutta così Se c'è scritto Finale in alto Non vuol dire Che ci siamo arrivati Vabbè Gironi passati Penso a pieni punti Sì Pieni punti Comunque In campionato Siamo arrivati terzi Dopo vi faccio vedere Sotto il Betis Zagabria Che è un'altra squadra Balcanica E Lecciatanzica Che non so dove sia Allora Turno preliminare Ci Becchiamo Dove è Dove siamo Non mi vedo Aspettate Ah no Che il turno Il preliminare È per quelle scese Dalla Champions Mi pare Sì Ottavi di finale Abbiamo beccato Al Real Sociedad In cui vinciamo 2 a 1 2 a 1 E 2 a 1 Quindi L'andata 2 a 0 E Buono così Poi Ai quarti Ci becchiamo Il Piemonte Calcio La Juventus Che suppongo Si è sceso Dalla Champions C'era prima Ehm Milan Atalanta Quindi no E lo battiamo 4 a 2 2 a 0 E poi 2 a 2 Alla partita prima Semifinali Ecco qui Siamo stati eliminati In semifinale Di Europa League Dalla Roma Dalla Roma E ah Finale di Europa League Roma-Inter Vabbè E Le italiane Battono i Balcanici E i tedeschi E va a vincere l'Inter Contro la Roma Vabbè Bella finale Di Di Europa League Carabao Cup Vabbè Vi faccio vedere Anche in secondo anno Cosa abbiamo fatto Anche se non è L'obiettivo Questo Ma l'obiettivo Era vedere La Premier League Al secondo anno No Ma poi perché Mi dice 4 Vabbè Eravamo arrivati in finale Di FA Cup E vabbè Vabbè In campionato terzi Ve l'ho già detto E niente Ragazzi Noi ci vediamo qui In un nuovissimo video Ehm Ok niente Ehm Di quanto Non abbiamo vinto Di Abbastanza punti 11 E niente Noi ci vediamo domani Con Ok So già Che video Registrò Stasera E niente Ci vediamo domani Con questo video Appunto Mi sono scordato Di farvi vedere La classifica Marcatori Ehm Allora vabbè Ho venduto qualcuno Vabbè Tanto non è importante Il campionato Del secondo anno Ehm Un po' di gente Mi sa So che ha detto Vabbè Ha fatto schifo Avrà giocato Zero partite Popescu Era in grado Di giocare Racica Questi qui sono cresciuti Guardate Levakovic Che giovinastro E' diventato Grandissimo Versalico Poi se n'è andato Qualcuno in fuori Vabbè Gimenez Gimenez Meglio che non giocava Ma ripeto Non è importante Il secondo anno Era solo per vedere L'Europa League Vabbè Non c'è più nessuno Praticamente Potassi anche Che la vincevamo L'Europa League Con quelli che sono andati E detto questo Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Questa volta Veramente